Io sono Maria Emma Gombi, coordinatrice dell'Associazione Culturale Eclettica World del maestro Giuliano Ottaviani. È un'associazione culturale che è diventata internazionale, abbiamo moltissimi eventi anche all'estero, prossimamente siamo in Fiera Parigi e a New York il prossimo anno e tutti gli altri eventi. Ad esempio il 10 novembre siamo a Venezia con la Scuola Grande San Teodoro, faremo 10 giorni anche a Venezia in occasione della Biennale. Il maestro Giuliano Ottaviani ha 53 anni del suo lavoro, è nato come orafo e adesso è diventato il mio maestro di scultura e io ho iniziato a fare scultura con lui. Perfetto, ci fa vedere le sue opere, le opere del maestro. Di solito... Di solito è Manatta, Cavalli e Vagliberti, opere proprio in bronzo. Perché di solito gli allievi... Vogliamo partecipare all'Ippica, adesso con un evento all'Ippica e quindi... Questo può essere usato come premio? Esatto, come trofeo, esatto, perché lui in effetti viene chiamato per presentare, è un critico d'arte, quindi per presentare e anche per assegnare in giuria trofei, eccetera. Bravissimo. Queste invece sono le mie opere, questo è un critico, abbiamo fatto un evento insieme con il maestro Giuliano Ottaviani parlando dell'azione, qui vediamo praticamente l'azione... Un'azione amorevole. È bravissimo, ecco, d'amore proprio. Poi invece qui abbiamo tre opere che parlano dell'alzamento delle temperature che ha creato problemi e continua a crearli, quindi il tornado abbiamo, che è un pezzo, manca un altro pezzo di quadro qui, poi abbiamo il tsunami, il vortico d'acqua e che alla fine il ghiacci che si sciolgono. Avevo anche la foresta che brucia, l'incendio, però l'ho venduto. Ecco, e queste invece sono le mie prime opere in bronzo, questo è Mullami, mentre di là è un basso rilievo in tango, è titolato il tango, tango argentino. Poi abbiamo qui sempre come azione o un portanto, siccome sono anche associata a un'associazione sportiva e quindi ho fatto un po' di sport, ho messo tutti, il salto in alto, la danza acrobatica e la ginnastica artistica. Che possono essere usate anche come pubblicità. Esatto, esatto. La social business è un'art. Esatto, è stato un piacere e grazie di essere passate. E anche qui. Arrivederci. Arrivederci.